Questo è il Grash in Mondi che ci sono 6 tasti vero? Si sono 6 tasti Dal piccolo al forte ti do anche questi indizi Pugnete e calcetti Qui vincerà sicuramente l'amicizia Sul Grouge che c'è su Kilti Gear Potrebbe effettivamente rifarsi godile di qualche piccolo sassolino cannesca C'è del sale Dimmi se sono giusti Lei ti mette solo il per 3 Attenzione Shin C'è Monkey che mi spiega come devi giocare Te lo dico? Puoi saperlo? Di bufferare super jump avanti ogni volta che fai Thunderknife col forte Ha senso per te questa cosa? Bufferare super jump avanti ogni volta che fai Ogni volta che fai HP TK Ma è Thunderknife col pugno forte no? Motivo? Mi chiedono da casa motivo Rispondici Almeno se scambia può cambiare bar kick Ti risulta? E se non scambia non succederà Sta scuotendo la testa ok? Non è vero un cazzo Faccio interessante Attenzione ci scende in campo Ken C'è già un trade vincente per lui Ricordatevi che non è qui il Tigger Giocate a terra Invece Tanka salta allegramente Spazzata In che maniera? Ancora Ma aspetto ancora una spazzata Pugno forte invece E' giocata al Tigger allora Dai Chi ha vinto adesso? Allora ha vinto lui Rushing Monkey è in castigo Lo sai le cose grandissime Lo dichiaro non è stato un problema Rushing piscia il gioco brutto E vuole giocare solo con il Tigger Vince Nek Qualcosa Dai smettila Ottimo Godel Che si ricorda dove sono i tasti Non è facile Non è facile E' uno dei pochi personaggi Davvero questa Non è una baffata Attenzione Domina lo spazio aereo Para anche alto Giustissimo Una cosa è difficile anche per me Sono mancato Credo che Questa sia una buona Vantaggio Solo Fintrub di spazzata Sì Cosa dicevo di primo mod? Non lo so Perché la dicevo? Sì E' arrivato un Ken fortissimo Ah 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 Fintrub di spazzare presa in volo. Si risveglia questi buchi. Mamma mia la lettura. Wallet Perfect, goloso. La bufata del secolo. Grazie, grazie, grazie a tutti. Shoryuken X, giusta risposta. Roma per Toma. Un scontro. Occasione chiude. Mamma mia. Primo punticino per godo. Non so che ci sono i nomi invertiti. Che fastidio, si. Si ricordi nei primi. Bravo. È la battle dialinga. Finito il battle dialinga. Devo dire che però mi piace questo match, è equilibrato. Ma aspettiamo un bello sciolico, in qualche modo la porto a casa. E' bello lo street fighter. Stai scherzando. Stai fallo, nel dubbio Shoryuken. Shoryuken. Bravo. Full screen. Si pare a basso quello. Do gli aiuti. Ma i buchi c'è, due del ruba. E di chi lo sai, hello. Hello. Sempre max point. Sì. 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 Eccola. Dove va? Che cazzo è successo? Tento. Mamma mia! C'era un capello. A calcio in bocca. Uno pari. Ero già, bravissimo, lo stavo già pubblicando. E' bello un casino. Ma, qui c'è qualcosa che non torna in questo commento. Chi è? Kakuzza. Qualcuno sa chi è Kakuzza? C'è la concentrazione a mille. Tu ci sei anche a martedì prossimo dove c'è Sirtax? Sì. C'è Sirtax? Si. Si, si. Ho già confermato. Sposto al turno. Sai false promesse. Mix up. Allucinante. Attenzione. Non sa cosa fare. Guardalo, guardalo. Addirittura aggancia il tazzo. Ho preso il tazzo, ma. Eccolo, Siryuca nella speranza. Mix up over end. Qualcosa. E match point per goda. Due avanti pugni. Doppia bolla avanti, tre pugni. No, tre pugni. Intanto in chat danno i numeri. E noi dobbiamo il consiglio. Gira, gira. Punisci. Bravo. Di più. Oh. E presa aereo. Oh. oh mamma attenzione sia se grabba OOOOHHHHHH è già su 20-up lo ammazza di presa e lo ammazza di c e scappa bravissimo una lotta nel fango incredibile Molto contenti del risultato i nostri ragazzi Anche tu devi continuare? Ma meno di te non è male Come minaccia Vediamo chi tocca quindi 2-1 oppure tesa Taka dox Godel Godel vince Dio vio Quindi Taka Torna un po' qua Devi giocare contro la power Vai Eh si Eh perchè sono più indietro Se facciamo giocare subito la winner non ha senso Eh si Ha pisciato Eh si Non vuoi giocare State di mano Eh Ehm Giocare o no Attenzione Neckel bravissimo Intanto raw power set up Fa tutto l'universo Confermo che The Monkey da casa si accorde che il gioco è diverso Ciao Tanta roba Tanta roba Vai Prova i tasti Spaduken Spaduken Arriva anche Intanto anche schiacci sempre Eh Con i due piccoli Pugno piccolo e calcio piccolo Animazione a vuoto E Sei chiaramente punibile Va a vuoto e c'è il cover e tutto il resto Ci si può liberare Hai una finestra in cui puoi teccare A tua volta È grande È safe frame se mi ricordo bene Safe frame Quando parli di animazione Tu se sei imparata Di solito si fa In ritardo Durante l'animazione dell'avversario È un po' complicato da spiegare La presa Iniziano Magari salvo anche i nomi Così vediamo i ragazzi Adesso Io dico anche Io quindi Imponderò la tua forza E stai tranquillo Che secondo me C'è Un grande numero Mi raccomando Mauro Fai il tuo meglio C'è Neo Ti sta guardando Ti saluta Saluti a casa Ricordo Per chi ci segue da casa Che Takadoks È semplicemente Un Bravo guaglione Che ha deciso di partecipare Nonostante giochi solamente A Guilty Gear Però sa dove è lo Shoryuken E intanto Mauro Droppa Sbaglia le combo Succede un casino Come vedete È bravissimo nel gioco aereo Va anche a cercarsi la palletta Schiacciati Schiacci ti dirò solamente Che questo Gouken È stato allenato Personalmente Alla Neo Punisher Online Si scambiavano i consigli 1-0 Commento di Neo PD le punizioni Stella stellina Insegue Sposta lo schermo Scorrettissimo Salto neutro in quel caso Takadoks Salto neutro Sempre salto neutro Ah Alla Super salto Ah stretto di mano tra i nostri una pratica autossommato veloce stacca fuori dal torneo grande cuore però per aver partecipato qua con noi quindi il prossimo raw power contro la shin monkey vince a tavolazzo che vuole giocare solamente attenzione attenzione il grande classico templarone contro mazi kaiserone e poi si continuerà verso le semifinali con mackwick contro china neckel contro goder arrivo voi attenzione chiamano pausa sega e nessuno allora evidentemente ci sarà attenzione 5 minuti di silenzio religioso che poi ci sono solo bestemmie o mie o su pensiamo per poi tempo per i porconi che vado in post azione ah beh ma c'è il classico c'è barcellona real madrid è qua eccomi regia saluto nio ciao nio grandissimo però ancora un mazino però cercando di allenarmi saluto anche schiacci ciao schiacci oh assistiamo al classico templar mazi ok mi dicono prova tasti io vedo del sale anche nella prova tasti comunque mazi stai registrando tutto tutto il torneo controllo controllo no toccato in mano sezione tentato si si ci voleva carezza qua incomincia barcellona real madrid è attra 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 Grazie a tutti E comincia il Vortex Buona risposta del Templare Punizione chiude Eh non so come si fa lo so raga Ci stanno i nomi invertiti Sì ok ti aspetto Sì ok Come rimetto il schermo? Sì, vabbè ma tratti. Sì, vabbè ma tratti. Sì, vabbè ma tratti. Sì, vabbè ma tratti. 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 Vabbè. Vabbè.